Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Nonostante sia io al centro dell'attenzione, questa volta parliamo dei dieci gialli che Gio ha letto, cioè la top ten dieci gialli letti nel 2017 da Gio. Diciamo che non li ho messi proprio in ordine di gradimento, però sono dieci libri che hanno segnato un po' il 2017 e in mezzo ai tanti che ho letto ho ritenuto di menzionare. Diciamo che tra tutti e due l'italiano è qualcosa che oggi non c'è ma va bene lo stesso. Va bene. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come mi sembra di avervi già preannunciato, oggi parliamo della top ten dei gialli che Gio ha letto nel 2017. Come ben sapete io alterno meticolosamente narrativa e gialli, uno e uno, uno e uno. Quindi ho preferito distinguere due classifiche, prima fare quella della narrativa, adesso quella dei dieci gialli che sono risultati miei preferiti da quelli letti nel 2017. Allora, La scelta del buio di Pier Giorgio Pulixi, seconda avventura del poliziotto Vito Strega e Pulixi conferma di essere uno dei migliori esponenti della nuova generazione di autori noir. E qui, che devo dire, Michael Connelly è sempre stato uno dei miei autori preferiti, sicuramente il miglior autore di Gialli Thriller statunitensi, e nonostante continui a sfornare i libri, ognuno è sempre di altissimo livello e il passaggio con il grandissimo Harry Bosch mantiene interamente le promesse. Questo libro, La guardia, il poeta e l'investigatore di Jung Myung Lee, non è un vero e proprio giallo in senso classico, però l'ho inserito comunque nel novero delle letture di genere. È un libro molto particolare, c'è una storia già lei sottofondo, ma racconta anche di diverse esperienze, la seconda guerra mondiale, la vita in carcere, l'arte, la poesia, un libro che merita di essere letto. Per la serie Mi piace vincere facile, anche qui Don Wieslow, corruzione. Diciamo, il libro è leggermente, lievissimamente inferiore ai due capolavori precedenti che erano Il potere del cane e Il cartello. Comunque è sempre di altissimo livello, nonostante la trama non sia di prima mano perché riecheggia alcuni film, alcune fiction tv che si sono già viste, però la scrittura è sempre avvincente ed è un libro che si divora, si beve rapidamente con un bicchial d'acqua. Questo libro, i fantasmi all'impero di Dodaro, Consentino e Panella, è stata una vera sorpresa, in quanto l'avevo preso un po' dubbioso, però è in realtà un libro che, come conferma me, mi ha veramente trascinato, nonostante altre 500 pagine l'ho letteralmente divorato in pochi giorni. E' un libro che ha una trama gialla che si svolge sullo sfondo della guerra d'Africa, diciamo l'epoca in cui Mussolini proclamò l'impero e i territori hanno utilizzato questo sfondo storico per costruire una trama degna di nota. Un libro da leggere. Un autore che raramente sbaglia un colpo, Roberto Costantini, con la quinta avventura di Mike Balisteri, che come al solito impiega 20 anni per risolvere un caso. Qui abbiamo Balisteri in due momenti diversi della sua vita, all'epoca delle lotte studenteste, della destra oltranzista, e anni dopo che si trova a indagare sulla morte di uno degli amici di un tempo che è stato assassinato in maniera inspiegabile. Poi un altro autore che raramente delude, Leonardo Gori, questo probabilmente anche se l'ho recuperato quest'anno, è forse il libro migliore della sua carriera, in quanto fu insegnito all'epoca del prestigioso premio Scerbadenco. Come sempre abbiamo il colonnello Arceri, che indaga all'epoca dell'alluvione di Firenze. E' un libro veramente ben riuscito. Non farmi dei versi strani. Ma io sono una poefessa. No? Poefessa. No, ho capito. Poefessa, invece che poetessa, che faccio i versi, sono una poefessa. Ah, poefessa. Io direi più fessa che poi. Però va bene. Proseguiamo. Un autore a cui ultimamente mi sono affezionato molto, è Alessandro Robecchi, perché a mio parere è uno dei pochi eredi diretti di Scerbadenco, non solo per l'ambientazione della metropoli milanese, ma anche per lo stile noir, anche se rispetto al padre puntativo, chiamiamolo così, intraprende spesso la strada della commedia. Quindi diciamo che Robecchi lo considero un po' una sorta di unione tra Camilleri e Scerbadenco. Comunque anche questo Tortomarcio, con il solito Carlo Monterossi, impegnato in un'indagine a sorpresa, visto che lui non fa l'investigatore di professione, ma fa l'autore tv, è un libro che mi è piaciuto molto. Questa è stata la vera scoperta dell'anno. Confesso che fino a pochi mesi fa non sapevo chi cavolo fosse Jakob Arjuni. Ho letto il primo romando con questo protagonista, un detective di origine turca che vive in Germania che si chiama Kemal Kejankaya, e mi sono innamorato immediatamente del personaggio, tanto che ho acquistato tutta la serie praticamente. L'origine è del cosiddetto Edno Thriller, perché c'è questo poliziotto di origine turca che indaga su problematiche sempre importanti a livello sociale, questioni di immigrati, eccetera. Il personaggio, parecchi anni prima di Rocco Schiavone, era già un personaggio sopra le righe, e la righe è capace di andare contro le convenzioni e scontarsi con l'autorità. Un'ottima scoperta. Happy birthday turco, ha detto il titolo. E un ultimo, il libro che mi è piaciuto di più di tutto l'anno assolutamente, I fantasmi del passato di Marco Vicky. Io adoro Commissario Bordelli. Commissario Bordelli secondo me è il miglior detective di tutta la narrativa già all'onore italiana. E questo è il settimo romanzo che compare, e la serie è sempre di altissimo livello. Anzi, col passare del tempo il personaggio è diventato un po' come una sorta di amico, nel senso che ogni volta che apro un libro con il Commissario Bordelli, mi sembra di ritrovare un vecchio amico. Solo questo basterebbe per spiegare la mia scelta, ma è un libro che racconta infinite cose, perché la trama gialla alla fine c'è, ma è solamente una specie di elemento a quello che è un romanzo di narrativa in tutti i sensi, in quanto si parla dei ricordi della guerra, si parla del 68, delle lotte tra studenti e polizia, si parla di una storia d'amore contestata, si parla di tantissime cose. E proprio per questo i fantasmi del passato, i Marco Vichi, merita di diritto al primo posto nella mia top ten dell'anno 2017. nonostante le smorfie di Melissa che ha tentato di disturbarmi in tutti i modi e me ne vendicherò al prossimo video che gira a lei e la mia top ten è terminata. Ciao a tutti, alla prossima. Alla prossima.